Maxi operazione dei carabinieri di Salerno e della DDA, 56 arresti, 35 in carcere, gli altri ai domiciliari, per spaccio di droga e detenzione di armi clandestine tra il capoluogo, Cosenza e Torre Annunziata, le mani del clan Gionta a rifornire il traffico di cocaina, crack e hashish. Nei comuni dell'Agro, a Nocera Inferiore, Cava dei Tirrini, Battipaia, Amalfi e Deboli, a far scattare le indagini e i controlli dei militari di Pagani a casa di Giacomo De Risi, ritenuto a capo con l'aiuto della moglie dell'organizzazione criminale, nelle intercettazioni De Risi si vantava di aver trasportato le sostanze stupefacenti su ambulanze con a bordo pazienti dializzati. Sono stati monitorati anche cinematograficamente i dispostamenti della sostanza stupefacente realizzati attraverso questa autoambulanza appartenente ad un sodale del gruppo criminale. Sono stati filmati proprio i momenti in cui dall'ambulanza l'addetto scendeva per portare a destinazione la sostanza stupefacente. Sequestrati 5 kg di cocaina, 3 di hashish, 102 i diversi capi di imputazione per un giro d'affari da 5 milioni di euro l'anno. Il volume d'affari era veramente poteroso, con uno smercio di sostanze stupefacenti, un vero e proprio traffico, con più catene di spaccio. Le forme di comunicazione erano assolutamente criptiche, non utilizzavano assolutamente telefoni cellulari.